Fin di settimana passando, il CFT è stato in Aruba e questa è la Università di Aruba che ha fatto una presentazione di quello che significa la presenza in Aruba che si tratta di fare un caso di St. Marta e di Cossol e principalmente una vista di una situazione finanziaria del Paese Aruba. Spero che ci sono un'informazione, ma non è un'informazione che ci sono l'arga di fare un anno e ci sono un'informazione di più alti, ma ci sono un'arga più alta per il Paese Aruba e ci sono un'arga più grande, ma anche in Aruba è una cosa più alta del Paese Aruba e ci sono un'arga più alta del Paese del Carribe. E sicur'è qualcosa di più e qualcosa di più che si tratta di vedere, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.